Dal sondaggio effettuato e che presenteremo questa sera, appare che lo stato di salute dell'industria, della piccola e media industria locale, è ottimo perché risultano imprenditori consapevoli dell'innovazione e imprenditori che hanno già implementato molte delle innovazioni che sono presenti sul mercato relativa all'industria 4.0. Quindi si può dire che nonostante non si avverta nel pubblico normale, la piccola e media industria si è già adeguata o si sta adeguando a quelli che sono i ritmi dell'attuale società, quindi la connettività, l'informatizzazione, il trattamento dei dati, la trasformazione delle macchine da semiautomatiche in automatiche, eccetera. Quindi le opportunità stanno per essere colte per intero. Ovviamente si apre anche una prospettiva di piccola e media industria che comincia ad esportare in tutto il mondo, grazie anche all'interazione con i mezzi di comunicazione.